Vado! 1 2 Ma ci sono cose? No, no 1, 2, 3 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Allora, mi avete chiesto come è il mare di Maratea Ragazzi, è trasparente L'unica roba è che ci sono i sassi e soprattutto qua sono ustionanti quindi vi consiglio se venite le scarpettine quelle di gomma ma l'acqua è qualcosa di meraviglioso cioè è trasparente è veramente un sogno proprio immersi nella natura è un paradiso abbiamo soccorso questi ragazzi che erano abbandonati in mezzo al mare un urlo di gioia durante una gita in barca a Maratea i petrelli si sono trovati protagonisti di un atto di eroismo avvistando due ragazzi che si erano allontanati troppo dalla riva Giulia e Pierpaolo sono intervenuti prontamente soccorrendoli e riportandoli in sicurezza verso la terraferma le acque cristalline di Maratea non solo offrono una vista ammozzafiato ma rendono ogni momento magico e indimenticabile per Giulia e Pierpaolo questa vacanza si è trasformata in un'esperienza ancora più speciale grazie al loro gesto altruista le bellezze naturali di Maratea unite a un episodio di coraggio e generosità hanno reso il loro soggiorno davvero memorabile 1, 2, 3 vai 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 luto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti